Non vale la pena voltarsi dall'altra parte. Certamente, ci saranno delle difficoltà a vivere su questo mondo, ma se avete il coraggio di guardare e ascoltare tutto ciò che accade attualmente, constaterete che alla fine non ci sarà che la continuità prima della realizzazione. Dovremmo dirvi ancora che noi, vostri fratelli di luce, vostri fratelli galattici, vostre guide, vi saremo vicini come non siamo mai stati finora. Vi saremo vicini per aiutarvi, e più farete un lavoro personale, più vi saremo vicini per prendervi la mano e proteggervi, vi proteggeremo da voi stessi e da tutto ciò che vi circonda. Non parliamo necessariamente degli umani, parliamo degli avvenimenti generati da vostra Madre Terra, se questo dovrà essere. Durante questo nuovo anno, molte cose succederanno, certo, ma la cosa migliore sarà quello che succederà dentro voi stessi. Vi rendete conto di ciò che può rappresentare, per un umano, essere l'intermediario fra le energie provenienti dai vostri fratelli di luce e dalla sorgente e i vostri fratelli umani e tutte le vite di questo mondo, essere semplicemente aperti per integrare queste energie d'amore e restituirle costantemente? Esiste una missione più bella sulla Terra? Non credete che questo potrà far vendere la bilancia dal lato migliore, vale a dire che anche se si verificheranno determinati eventi ineluttabili, questi potranno essere meno catastrofici se ogni essere umano non si chiuderà in se stesso mettendo la testa sotto le coperte dicendo non voglio più vedere, non voglio più sentire, perché alla fine la vita non è degna di essere vissuta? Esattamente, la vita su questo mondo vale realmente la pena di essere vissuta, perché ogni esperienza che fatevi in alza, vi fornisce la comprensione e vi permette anche di sviluppare questo amore così importante. Siate quindi felici, perché se non siete nella gioia profonda, nella serenità, nella fiducia, non potrete restituire tutto quello che riceverete dalla sorgente, dall'universo e dai vostri fratelli di luce, ciò si bloccherà nel vostro cuore e causerà dei problemi nel vostro corpo di materia. Cercate di integrare bene, di capire bene quello che abbiamo già detto tutto ciò che riceverete lo dovrete restituire. Tuttavia non preoccupatevi, perché se avete fatto abbastanza pulizia dentro di voi, tutto sarà fatto con grande semplicità. L'evoluzione semplice, sono gli esseri umani, che si divertono a complicare sempre tutto. L'evoluzione semplice proprio come l'amore e la saggezza. Gli esseri umani adorano funzionare con il loro intelletto, ma a volte si lasciano così tanto trasportare da esso che non capiscono più la differenza tra realtà e illusione. Essi trovano che è molto gradevole far funzionare questa parte di loro stessi, perché hanno spesso l'impressione di essere più intelligenti, di capire in meglio, mentre non c'è un reale avanzamento con l'intelletto. Essi con l'intelletto possono comprendere ma non possono avanzare spiritualmente. L'avanzamento spirituale si fa molto semplicemente con il cuore, quel cuore di cui noi parliamo tanto, e che è tanto trascurato dagli umani. Certamente, conoscete l'organo, o almeno relativamente, ma non conoscete tutto ciò che rappresenta in altri livelli d'energia. Non capite che nel vostro cuore umano si trova il più importante punto d'amore, che è molto semplicemente un cuore d'oro. Dovete aprire il vostro cuore umano finché il vostro cuore d'oro possa esprimersi. Questo cuore d'oro contiene l'immenso amore, che è in voi. Perché gli esseri umani sono spesso infelici? Perché hanno essenzialmente bisogno di gratitudine e di amore, hanno bisogno di essere amati. Spesso, quelli che hanno tanto bisogno di gratitudine e di amore non hanno la capacità di amare se stessi, preferiscono essere amati dagli altri che amare se stessi. Questo è uno dei più grandi errori, che fanno gli esseri umani. Quando parliamo di amare voi stessi, questo non è fare del narcisismo, vuol dire amare ciò che siete al di là dell'umano. Questo non è dire sempre io sono il più bello, ho tutte le qualità del mondo anche se affermando questo forse potete creare quelle qualità, a condizione, che non siate troppo intracciati da negatività e compiacimento. Questo è quello di cui abbiamo voluto parlarvi in questo inizio d'anno. Ampio programma, ma talmente un bel programma. Ci piacerebbe parlarvi della transizione, ma ciò che è più importante per noi, per il momento, è prepararvi. Come vi preparate se non con tutto quello che vi abbiamo detto, specialmente questa sera e fin dal tempo in cui vi insegniamo? Ognuno di voi è totalmente diverso nel suo modo di essere, di pensare, di concepire e di amare. Parlate molto di differenza, e vivete questa differenza nel quotidiano rispetto alle relazioni, che avete con gli altri. Ogni essere umano è molto diverso e non ne esiste uno simile ad un altro, come non c'è un pianeta simile ad un altro. La sorgente, nella sua immensa intelligenza, nel suo immenso amore, ha creato ogni essere unico. Anche se ogni essere ha in sé una parte divina, nella sua essenza è unico, questo è ciò che fa la bellezza della creazione, perché se la sorgente avesse creato esseri simili, in primo luogo non ci sarebbe alcuna evoluzione e quindi non ci sarebbe questa differenza, che crea la bellezza, che questa bellezza sia l'umanità, i pianeti, o i soli. Tutto è unico e tuttavia unito dalla scintilla divina, che è più o meno importante naturalmente la scintilla divina, che si trova in un essere umano è un po' meno importante di quella che si trova dentro il sole. Questo non ha una grande importanza, l'importante è sapere che tutto ciò che è stato creato dalla sorgente è collegato, interconnesso per l'eternità.